Grazie per questo graditissimo invito. Benissimo, allora io non faccio altro che cedere la parola a professor Tommaso Montanari, siamo tutti curiosi di ascoltare la sua conferenza. Grazie, buonasera. Grazie, è una bellissima occasione questa per me, da poco rettore dell'Università per Stranieri di Siena, di incontrare la comunità degli italiani in Turchia, di collaborare con la nostra ambasciata e con l'ambasciatore e di parlare dell'Italia in una chiave in che spero possa essere di interesse anche per chi guarda l'Italia non isolata, chiusa nella sua storia, ma per quello che la sua storia rappresenta, una storia di aperture, di commissioni, di dialoghi e di confronti in cui noi stessi come italiani siamo forse a volte non del tutto consapevoli del contributo che abbiamo dato su tanti fronti diversi da quelli che la retorica corrente tende a rappresentare. E così succede che parliamo spesso di creatività italiana, che naturalmente esiste, ma ci soffermiamo molto di meno, e lo dico da storico dell'arte, quando parliamo di patrimonio culturale, su quello che è stata la nostra plurisecolare responsabilità, il senso di responsabilità collettiva che l'Italia prima, e direi meglio di molti altri paesi, ha sviluppato nei confronti di una missione fondamentale, che è quella di trasmettere al futuro il proprio patrimonio culturale. Tutto quello che riguarda la storia della tutela, della conservazione, e, come prova a dire il titolo della mia conferenza, l'idea di non vedersi come padroni, ma come tutori, come custodi di un patrimonio culturale da tramandare al domani. Questo era vero molti secoli fa, molto prima che le parole d'ordine come sostenibilità entrassero, vorrei dire meglio tardi che mai, nel lessico e nell'immaginario collettivo, nel discorso pubblico. Nella lunga storia di patrimonio culturale, che, nella lunga storia di un'idea, questa idea di patrimonio culturale, che nasce e si sviluppa proprio in Italia, anche se poi avrà la sua consacrazione definitiva nella Francia rivoluzionaria, dove il concetto di patrimonio culturale viene associato all'idea di sovranità popolare. In questa lunga storia ci sono dei momenti cruciali che sono quelli che hanno a che fare con le grandi crisi, con le grandi distruzioni del patrimonio. In Italia si riflette sull'idea di patrimonio culturale, anche molto prima che questa espressione venga coniata, non stupefacentemente quando il patrimonio è a rischio, quando il patrimonio è distrutto, quando il patrimonio è violato. Potremmo dire che da molti secoli siamo abituati a sederci o a inginocchiarci accanto a quello che, come vedremo, questo grande artista del nostro passato e del nostro presente, vorrei dire Raffaello, chiamava il cadavere della patria, cioè il patrimonio culturale ferito, per riflettere sul suo statuto, sul suo significato. È una storia che io in questi anni di ricerca ho provato a, come dire, a tratteggiare individuando alcuni punti di svolta. Uno dei più antichi sicuramente è la riflessione di Cicerone sul patrimonio culturale siciliano saccheggiato da Verre. Siamo nel 70 avanti Cristo. Un governatore corrotto che porta via da una provincia tutto quello che di più bello c'era in quella provincia, sia nelle case private che nei luoghi pubblici. Nella Quarta Verrina, Cicerone, nota come il designis, il delle statue, Cicerone mette a fuoco alcuni elementi fondamentali che poi rimarranno ricorrenti nella nostra idea di patrimonio culturale. Per esempio, laddove dice che ciò che Verre ha portato via non erano solo ornamenta, non erano solo cose belle, ma erano monumenta, cioè oggetti o luoghi o complessi che costituivano dei nessi fondamentali per l'identità della comunità, per la sua proiezione verso il passato e dunque verso il futuro. Tra i tanti passi ce ne può citare uno particolarmente famoso, quello in cui racconta come Verre abbia saccheggiato una certa cappella privata in casa di un patrizio di Messina, Eio, in cui c'erano statue di Mirone e di Prassitele, e dice Cicerone, anche se erano di proprietà privata, a chiunque di noi andasse a Messina andava a vederle, e quando furono saccheggiate questo avvenne con dolore di tutta la città. Dice Cicerone, quella casa costituiva un vanto non tanto per il suo padrone quanto per l'intera città. L'idea del patrimonio culturale come patrimonio pubblico anche laddove la sua proprietà e il suo statuto giuridico ossia quello di una proprietà privata. Un patrimonio violato, devastato, rubato, Verre, una capacità critica, Cicerone, che ne legge i connotati e comincia a costruire un'idea di patrimonio. Si potrebbe seguire questa storia a lungo molti secoli, come il titolo della mia lezione promette, ci soffermeremo soprattutto su Raffaello, ma sono tanti davvero i momenti che si potrebbero citare. Ne cito soltanto un altro perché per gli storici dell'arte è particolarmente importante. Tradizionalmente, almeno dai tempi della letteratura artistica di Julius von Schlosser, questo studio del 1924 di un grande studioso austriaco profondamente legato all'Italia crociana, si fa partire la storiografia artistica, la storia della storia dell'arte, con un testo di Lorenzo Ghiberti, grande scultore del Quattrocento, che alla metà del Quattrocento scrive i commentari che contengono tra l'altro la prima autobiografia di un artista occidentale e che riflette sulla distruzione del patrimonio culturale pagano ad opera dei cristiani. Dice letteralmente Ghiberti, al tempo di Costantino imperatore di Silvestro Papa, sormontu sulla fede cristiana. Ebbe la idolatria, grandissima persecuzione. Non c'è solo la persecuzione dei cristiani da parte dei pagani, ma c'è nella voce di un cristianissimo artista del pieno rinascimento la percezione di una distruzione che dal loro punto di vista era stata sistematica, di che cose? Le statue e le pitture furono disfatte e lacerate di tanta nobiltà e antica e perfetta dignità. E così si consumarono con le statue e le pitture volumi e commentari, lineamenti e regole che davano ammaestramento a tanta egregia e gentile art. L'idea della cultura classica come una cultura indivisibilmente commista di immagini e di testi, la serie delle immagini e la serie delle parole, l'eredità classica che viene coscientemente, programmaticamente distrutta, violata dai primi cristiani. Una sorta di grande operazione di cultura della cancellazione, diremmo oggi, così almeno Ghiberti la immagina e la racconta alla metà del Quattrocento e anche qua la riflessione su una distruzione induce una percezione più acuta, acutizzata, di che cosa sia il patrimonio culturale. Un patrimonio culturale che per Ghiberti, e questo sarà un punto fondamentale nei secoli successivi, è, usiamo anche qui una parola antistorica, laico. Evidentemente Ghiberti non auspicava il ritorno del paganesimo antico, per usare un'espressione cara David Warburg, ma immaginava che tutta quella bellezza non dovesse necessariamente essere legata al suo significato originario, ma potesse assumere un altro significato, per l'appunto quello culturale. Nell'idea di patrimonio culturale, questa idea della migrazione dei significati, della sostituzione dei significati, una culturalizzazione, è fondamentale. Anche qui una distruzione, una riflessione. Quando nasce la riflessione più consapevole sul fatto che il patrimonio culturale è contestuale, cioè non è la somma di tante singoli capolavori, oggi va molto di moda l'espressione capolavori assoluti. È un'espressione che dovremmo tentare di dimenticare, di non usare, nessun capolavoro è assoluto, nel senso di sciolto. Roberto Lonchi, un grande storico italiano del Novecento, diceva che tutti i capolavori sono squisitamente relativi, cioè immersi in una rete di relazioni. Non c'è nessun capolavoro, per usare questa espressione, che sia sciolto da questa rete di significati. È durante le campagne napoleoniche di spogliazione sistematica dell'Italia, l'idea di costruire il grande museo dell'Europa rivoluzionaria e poi imperiale a Louvre, che si fa davvero molto forte l'idea che il patrimonio sia contestuale e dunque legato al territorio in un modo inviolabile. E in questo momento la voce non è quella dell'italiano, è una voce più alta, ma quella di un francese, Antoine Catermer de Kinsy, che era un architetto, uno storico dell'architettura, uno storico dell'arte, che nel 1796 scrive una serie di lettere a un generale venezuelano, il generale Miranda, in cui abbozza un'idea, una teoria del contesto che per molti versi ancora oggi è di straordinaria fascino e attualità. un francese che cerca di convincere i francesi che no, non bisogna spogliare l'Italia dei suoi capolavori, bisogna lasciarli lì, perché solo nel corpo, nel grande corpo del contesto italiano, essi hanno il loro pieno significato. Se pensiamo al dibattito sulle restituzioni, sulla decolonizzazione del patrimonio, che oggi è un dibattito che oggi è così forte in tutto il mondo, non tarderemo a capire l'importanza di queste riflessioni. Vi leggo solo un breve passo dell'opera di Katremer de Kinsy, uno dei passi più impressionanti. Il vero museo di Roma si compone, sì, di statue, di colossi, di templi, di obelischi, di colonne trionfali, di terme, di circhi, di anfiteatri, di archi di trionfo, di tombe, di stucchi, di affreschi, di bassorilievi, di iscrizioni, di frammenti d'ornamenti, di materiali da costruzione, di mobili, tutte le categorie della scienza antiquaria, tutte le categorie degli oggetti che venivano predati da secoli, non solo a Roma, nella prima Roma, ma anche nelle altre Rome, in Costantinopoli, tra le altre, naturalmente. Ma, ma non di meno, è composto dai luoghi, dai siti, dalle montagne, dalle strade, dalle vie antiche, dalle rispettive posizioni delle città in rovina, dai rapporti geografici, dalle relazioni tra tutti gli oggetti, dai ricordi, dalle tradizioni locali, dagli usi ancora esistenti, dai paragoni e dai confronti che non si possono fare se non nel paese stesso. Perché il paese stesso è il museo. 1796, una teoria del contesto davvero straordinariamente intelligente che arriva a delineare anche quello che oggi chiamiamo il patrimonio immateriale, così profondamente connesso al patrimonio materiale, così inseparabile, in una costruzione di un orizzonte di senso che restituisca il patrimonio ai cittadini tutti del nostro tempo. Catremer de Kinsy, vi faccio lezione, non l'ho detto all'inizio, faccio questa lezione non dal rettorato, ma da casa mia, sono da casa mia a Firenze, sono momenti in cui, anche in Italia, cerchiamo di muoverci il meno possibile a causa della pandemia, ma è stato anche un modo per poter usare i miei libri e quindi non proiettare un PowerPoint, ma come si faceva nella lezione in un tempo, maneggiare fisicamente i libri, e anche a volte i libri vecchi, i libri originali. Questa, quella che vedete, un po' slegata, è la traduzione italiana della monografia di Catremer de Kinsy su Raffaello, che esce alla fine del Settecento e poi viene tradotta in italiano all'inizio dell'Ottocento. In questa monografia, per la prima volta, entra nella bibliografia raffaellesca, per usare ancora una volta una terminologia un po' antistorica, la menzione di questa lettera. Una lettera che Raffaello aveva scritto a Leone X nel 1519 e che trattava della necessità di salvaguardare i monumenti antichi, i monumenti antichi di Roma. Un rapporto, una lettera, dice Catremer, o meglio, come si direbbe oggi da noi, un rapporto sulle antichità di Roma indirizzata a Leone X. L'idea che Raffaello avesse scritto un testo così importante per la tutela del patrimonio era un'acquisizione recente. Catremer de Kinsy cita la prima pubblicazione di questa lettera, che è contenuta nel libro che vi mostro, l'edizione delle opere di Baldassarre Castiglione del 1733, le opere di questo grande letterato italiano del Cinquecento, del Rinascimento, che proprio alla fine, nelle ultime carte, dopo che il volume era stato stampato, aveva però fatto il tempo ad includere, proprio alla fine, come si vede, questa lettera a Leone X. Lettera non più stampata, cioè inedita, del conte Baldassarre Castiglione a Papa Leone X, comunicataci dopo finito il volume dal signor Marchese Scipione Maffei, un grande antiquario di Verona, presso il quale si conservano. Dunque, una lettera che riemergeva dagli archivi solo all'inizio del Settecento, 1733, ma che riemergeva come opera di Baldassarre Castiglione. Sarà soltanto pochi anni prima del volume di Catremer de Kinsy, nel 1799, che un erudito padovano che però lavorava a Firenze, Daniele Francesconi, precettore geometrie e di fisica nel Collegio di San Marco, pubblica, tiene una conferenza e pubblica questo libro, congettura, che è una lettera creduta di Baldassarre Castiglione sia di Raffaello d'Orbino, in cui, per la prima volta, con una serie di argomenti storici e filologici molto puntuali, restituisce questa lettera a uno dei più grandi artisti della nostra storia figurativa. E così, un testo che per tutto il Settecento sostanzialmente aveva addormito nel retrobottega del cervello degli eruditi italiani, diventa un testo cruciale, fondamentale. Il solo fatto di essere di Raffaello accende la curiosità di tutta Europa. Naturalmente non era un caso che ci si soffermasse su quel testo in quel momento, perché era proprio il momento in cui le campagne napoleoniche spogliavano l'Europa, in particolare l'Italia, nelle sue opere più importanti, e in cui Canova, Antonio Canova, veniva incaricato dal Papa di recuperare il possibile dopo la caduta di Napoleone dei beni portati in Francia. Tutta l'Europa discuteva sulla legittimità e sulla sensatezza del trasporto delle opere a Parigi e dell'opportunità della sua restituzione. E dunque, in Raffaello, gli italiani vedevano una specie di antesignano, un Canova di due secoli abbondanti prima, di tre secoli prima quasi ormai, che poteva, come dire, illuminare il presente e, come sempre succede, essere retrospettivamente illuminato da ciò che succedeva in quel momento. E cioè l'idea di una lunga lotta degli italiani per il loro patrimonio culturale. Il fatto che la lettera fosse di Raffaello e non di Baldassare Castiglione, il suo grande amico letterato, il Louvre, conserva un meraviglioso ritratto di Castiglione dipinto da Raffaello, il suo dalizio fra i due era cosa nota ed è molto probabile, oggi si pensa, che Baldassare Castiglione abbia aiutato Raffaello a scrivere quella lettera in un italiano colto, in un italiano alto. Raffaello era uno straordinario artista, ma naturalmente la sua lingua, la sua lingua italiana, sappiamo quanto è complicato parlare di lingua italiana per quel momento, era una lingua che aveva bisogno di una revisione dall'alto. E dunque il suo dalizio fra i due ci fu, ma non c'è dubbio che le idee, il dettato, l'andamento della lettera appartenga interamente all'artista, a Raffaello. Io sono molto legato a questa lettera per tante ragioni, fra le altre che, come succede in questo paese, e questa la dice lunga sulla, come dire, su quello che ancora oggi è l'Italia, mi permetto un minuscolo aneddoto personale, qualche anno fa soggiornando in un, quello che sulla carta era un modesto bed and breakfast di Mantova, che si chiamava però Baldassare Castiglione, ho scoperto che coloro che tenevano questo bed and breakfast erano gli ultimi discendenti di Baldassare Castiglione, che avevano ancora in un cavo di banca una serie di manoscritti. Tra questi, il più importante fra i manoscritti della lettera di Baldassare Castiglione al Papa, ricordo che chiamai in loro presenza il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali per gli archivi in quel momento, Raddino Famiglietti, una settimana dopo partiva la proposta d'acquisto, oggi quel manoscritto è nell'archivio di Stato di Mantova, c'è una certa, non so come chiamarla, serendipity dei viaggi, degli storici dell'arte che possono portare anche a esiti di questo tipo. Sta di fatto che oggi chiunque di voi voglia consultare quel testo, non deve andare in una banca chiedendo udienza ai Conti Castiglione, ma può rivolgersi allo Stato italiano che tutto sommato ancora esiste e questa è l'ottima notizia. Dunque, la lettera di Raffaello e la sua fortuna straordinaria alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento. Perché questa lettera è così importante? Ecco, io vorrei provare a leggerne qualche passo, a fare suonare la voce di Raffaello e a commentarla, provando a chiarire perché questa lettera è importante oggi e perché da questa lettera si possa tirare un filo che arriva dritto alla Costituzione italiana del 48, che, come sapete, è la prima Costituzione di un paese moderno che mette tra i suoi principi fondamentali la cultura, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico. Ci siamo chiesti tante volte perché l'Italia e perché non altri paesi? La risposta non è appunto soltanto la creatività italiana e l'importanza dell'arte in Italia, ma è la lunghezza e l'altezza di un pensiero critico sulla necessità di conservare il patrimonio, di conservarlo come bene pubblico. Potremmo dire, e proverò a dimostrarlo, che nel dettato dell'articolo 9 della Costituzione italiana che dice così la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, in queste poche parole di sapore moderno, novecentesco, in realtà risuonano molte voci. La voce di Cicerone, la voce di Ghiberti e, come vedremo, in modo molto dimostrabile, la voce di Raffaello. E non necessariamente nel senso che i padri costituenti italiani li avessero letti, anche se qualcuno c'era in Costituente che questi testi riconosceva e li amava, ma nel senso che la storia culturale italiana dentro di sé, metabolizzati e diffusi, ha queste idee, questi contenuti, questi sputti. La lettera è molto breve e nasce come introduzione a un rilievo sistematico dei monumenti antichi. Raffaello voleva disegnare, probabilmente dipingere in alcune grandi vedute, i monumenti dell'antichità di Roma. Purtroppo morirà di lì a poco e di quest'opera figurativa non abbiamo quasi nulla. È rimasta però la premessa scritta. Sappiamo, lo diceva già Orazio, come le lettere siano più durature del bronzo e anche più durature dei disegni. Abbiamo questo testo che non è un testo rituale, non è la solita premessa o introduzione di dedica al Papa. È un testo molto coraggioso e molto irrituale in cui un artista figurativo, un grande artista, si diceva che se non fosse morto, peraltro, come si diceva nel Cinquecento, di disordini amorosi. Il Papa l'avrebbe fatto cardinale, ci sarebbe stato un Raffaello cardinale che sarebbe stato davvero un Apax, un caso unico nella storia degli artisti italiani, ma comunque un artista che rimaneva sempre uno che lavorava con le mani, con tutti i pregiudizi umanistici del caso, che si permette di dire al Papa che cosa deve o non deve fare. È una lettera in cui Raffaello emerge come un intellettuale a tutto tondo con una fortissima coscienza di sé e della propria missione. Essendo, dice Raffaello, io stato assai studioso di queste antichità, la rivendicazione di una conoscenza, ma anche di un amore, studium è anche amore, no? Avendo io molto amato, molto frequentato, molto studiato le antichità, e avendo posto non piccola cura, attenzione, ma anche fatica, di cercarle minutamente e misurarle con diligenza e leggendoli buoni autori e conferendo l'opera con le scritture, conferendo l'opera con le scritture. Questa è una bellissima definizione della storia dell'arte. La storia dell'arte fa questo, mette in connessione la serie delle figure e delle immagini con la serie delle parole. La storia dell'arte è una disciplina umanistica, su questo Erwin Panosky ha scritto uno straordinario saggio. Penso, avendo fatto tutto questo, aver conseguito qualche notizia dell'architettura antica, la rivendicazione di competenza, non solo figurativa, ma anche antiquaria, anche culturale, storica, in senso lato, il che, la qualcosa, in un punto, contemporaneamente, mi dà grandissimo piacere per la cognizione di cosa tanto eccellente e grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavere di quella nobile patria che è stata regina del mondo, così miseramente lacerato. Si capisce che Raffaello si è fatto la vita con la malbassare Castiglione, c'è una retorica molto alta, c'è una qualità letteraria notevole e la figura ci impressiona molto. Il patrimonio culturale, diremmo oggi, lui avrebbe detto le antichità di Roma, sono il cadavere della patria. c'è una metafora politica e c'è la descrizione di una sensazione che tutti noi proviamo ancora oggi percorrendo l'Italia e non solo l'Italia. Un grandissimo piacere perché conosciamo delle cose così straordinarie e un grandissimo dolore per vederne lo Stato così, miseramente lacerato. Sono due sensazioni, due emozioni, due stati difficilmente separabili. Raffaello li tiene insieme e si rivolge al Papa dicendo anche quello che solitamente gli intellettuali anche ai nostri giorni fanno fatica a dire, cioè di chi è la colpa se le cose stanno così. E lo dice in un modo molto sorprendente. Ma perché noi ci doleremo, ci lamenteremo, dei goti, dei vandali e di altri tali perfidi nemici? la colpa non è solo delle invasioni barbariche. Proprio negli anni in cui la lettera di Raffaello viene riscoperta alla Convenzione di Francia, l'abate Henri Gregoire, questo grande figura della storia del patrimonio culturale, autore di un trattato sulla libertà degli omosessuali, autore di un trattato sulla letteratura dei neri, la letteratura delle persone di colore, un vescovo costituzionale molto illuminato, uno dei protagonisti, dei tre protagonisti sul proscenio del giuramento della pallacorda di David, per chi conosce quel quadro fondamentale nella storia della rivoluzione, Henri Gregoire aveva coniato un neologismo che avrà grande fortuna, vandalismo, una parola che non esisteva prima, che nasce in francese e poi passa a tutte le lingue europee, vandalismo. Ecco, Raffaello, 1519, dice, guardate che non sono stati solo i vandali a essere vandalici, non dice così, ma questo è il senso. Perché ci doveremo noi dei goti e dei vandali? Se quelli, come padri e tutori, dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle, chi doveva difendere non ha difeso. Chi aveva il compito della tutela non l'ha esercitato. anzi, ha distrutto il patrimonio. Raffaello si incammina su un discorso pericoloso, evidentemente, su un discorso di crinale, su un discorso franco e particolarmente urticante. Anche perché si capisce che questi padri e tutori, e poi tornerò su questa espressione che è l'espressione chiave, chi sono? I papi, i predecessori di Leone X. quanti pontefici, padre santissimo, i quali avevano il medesimo ufficio che a vostra santità, ma non già il medesimo sapere né il medesimo valore e grandezza d'animo. Ricordo che Leone X era Giovanni de' Medici, era il figlio di Lorenzo il Magnifico, grandissimo mecenate, umanista, uomo colto, amava ricordare che da bambino giocava con Michelangelo, che era di casa, a Palazzo Medici, si ricorda una grande nevicata a Fiorentina in cui Michelangelo fece un pupazzo di neve nel cortile di Palazzo Medici aiutato da Giovanni, il futuro Leone X. Questi predecessori che erano papi come voi, ma non avevano la stessa cultura, parafraso, quanti, dico pontefici, hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi? Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana siansi scavati fondamenti, onde in poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra. Quanta calce si è fatta di statue e altri ornamenti antichi, che ardirei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande che ella si sia, quanto bella, quanto ornata di palazzi, chiese e altri edifici, tutta è fabbricata di calce, di marmi antichi. non era una cosa facile da dire, soprattutto per un architetto, e ricordo che Raffaello era anche un grande architetto e che aveva avuto l'incarico di ripensare la San Pietro Costantiniana. Giulio II, predecessore di Leone, aveva preso la decisione gravissima di abbattere la Basilica Costantiniana di San Pietro e di ricostruirla in forma moderna. Il mentore di Raffaello, Bramante, era stato soprannominato Bramante Ruinante perché aveva intrapreso la distruzione della Basilica. San Pietro e Raffaello, per il breve tratto della sua vita, poi interrotto appunto dalla sua precocissima scomparsa, aveva assunto questo compito, ma in Raffaello il contatto con l'idea terribile, quella che Ors Bredekamp, storico dell'arte tedesco, ha definito, riprendendo, una definizione schumpeteriana, la distruzione creativa, era qualcosa che in genera nello stesso Raffaello una consapevolezza, una coscienza dell'imperativo della tutela. Potremmo dire che qui nasce il senso della tutela che l'età moderna lascia poi all'epoca e poi all'epoca successiva e nasce proprio nella coscienza di un grandissimo architetto che trovandosi chiamato a distruggere comincia a pensare che quella distruzione non sia necessaria e lo dirà poco più avanti in un modo struggente in questa stessa lettera. Raffaello dice la grande Roma rinascimentale, l'orgoglio delle ultime generazioni, generazioni che si sentivano pari agli antichi, eppure è stata fatta tutta di calce di marmi antichi. Abbiamo distrutto la Roma antica per costruire la Roma moderna e per la prima volta questo non viene presentato come motivo di orgoglio ma come un terribile mea culpa, una sorta di accusa collettiva e Raffaello fa anche i nomi. Nessenza molta compassione posso io ricordarmi che poi che io sono in Roma che ancora non è l'undicesimo anno, questo è uno dei passaggi che fa attribuire a Raffaello con sicurezza la lettera perché parla in prima persona e da elementi della cronologia della sua vita, sono state rovinate molte cose belle come la meta che era nella via Alessandrina, l'arco malavventurato, tante colonne, templi, massime, da Messer Bartolomeo della Rovere. E qui l'accusa è un'accusa precisa a un'importante figura legata a Giulio II della Rovere, si va a puntare il dito contro un uomo interno all'aristocrazia papale e il Daniele Francesconi nel momento in cui gli attribuisce la lettera dice in questa bellissima conferenza del 1799 che Raffaello non tace per amore dell'antichità e della verità, che è un'espressione che trovo bellissima, per amore dell'antichità e della verità, cioè l'erudizione che non è separabile dal movente civile dell'intellettuale pubblico che dice la verità assumendosene la responsabilità anche dicendola in faccia al Papa. Dunque è un Raffaello molto diverso dai santini, diciamo, degli artisti rinascimentali obbedienti ai mecenati, docili strumenti di una committenza che li trascende, ma una soggettività critica dell'artista che viene fuori con una forza davvero importante. Tra le parole che ho letto ce n'è una che fa piuttosto in pressione, Raffaello definisce i papi padri dell'antichità di Roma, poi naturalmente si corregge perché i papi non possono essere padri, essendo i padri la Roma Repubblicana e gli imperatori, i papi sono venuti dopo, e infatti dice padri, anzi tutori. Ora, la scelta di questa parola tutore è una scelta gravida di conseguenze, perché tutore viene da tueor, lo stesso verbo da cui viene tutela, che è la parola chiave dell'articolo 9 della Costituzione. Raffaello dice che i papi sono colori. Il tutore nel diritto umano, ma ancora oggi, è colui che si prende cura di un bambino, di un minore che non ha più i genitori, non come cosa propria, ma portandolo alla maggiore età nel più assoluto rispetto dei suoi beni, della sua integrità. Il tutore non è un padrone, il tutore non è un signore, il tutore è al servizio. Questo dovrebbe essere così anche nelle nostre università, i tutori sono al servizio degli studenti, non sono coloro che li comandano, sono coloro che li servono, che li accompagnano. C'è nell'idea di tutore un'idea fortissima di contrapposizione a un'idea di possesso, di signoria, di padronanza. I papi vengono ammoniti, non siete i padroni, siete i tutori. È sottilissima la scelta di questo termine, perché i papi che hanno preso il posto degli imperatori, io ricordo che quando ero piccolo mi colpivano moltissimo le foto dei papi, io sono troppo giovane per aver conosciuto Pio XII, ma quando vedevo le foto di Pio XII, che ancora entrava nella Basilica Vaticana, non solo sulla sedia gestatoria che è durata fino a Paolo VI, anzi, fino a Giovanni Paolo I, fino alla fine degli anni 70, ma entrava accompagnato dai flabelli, da questi grandi, enormi ventagli di piume di struzzo, ero molto impressionato, perché i flabelli passano direttamente dai faraoni e agli imperatori romani e arrivano ai papi in una, in questa idea di traslazio imperi con i loro simboli, in cui la sequenza era molto evidente, Raffaello questo lo vede, ma non riconosce ai papi la signoria sulle antichità di Roma, i papi sono tutori e come tutori devono tramandare al futuro le antichità di Roma senza violarle, senza distruggerle, non possono decidere di distruggerle nemmeno se vogliono. L'Italia, molto prima che in altri paesi, ha sviluppato l'idea che la proprietà privata e la proprietà privata da un lato e la signoria, il governo pubblico dall'altra, non possano distruggere ciò che va tramandato al futuro. Il più antico vincolo, usiamo una parola moderna, sapete che i vincoli nel diritto italiano sono quei provvedimenti di legge che impediscono a chi possiede un bene culturale di distruggerlo. Io ho in casa per l'appunto un quadro di Raffaello, non lo posso distruggere, non lo posso nascondere in cantina, non lo posso esportare dall'Italia senza chiedere l'autorizzazione, anche se è mio. La proprietà privata non è sacra e assoluta in Italia, ma viene limitata, secondo la nostra Costituzione, dall'utilità sociale, almeno in teorie, ma dalla legge e da una lunga tradizione per quanto riguarda i beni culturali ci vogliono una serie di autorizzazioni. Perché? Perché, come diceva un grande giurista dell'Italia del 900, Massimo Severo Giannini, insiste su il bene culturale una super proprietà collettiva a titolo di sovranità. Cioè, questi beni appartengono allo Stato, ma non a chi lo governa pro tempore, ma appartengono allo Stato e cioè vanno tramandati al futuro. Come si traduce in pratica questa missione, secondo Raffaello? Lo spiega subito dopo. Non deve, dunque, Padre Santissimo, essere tra gli usi ultimi pensieri di vostra santità, lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e grandezza italiana, per testimonio del valore e virtute di quegli animi divini che pur talora con la memoria sua eccitano la virtù gli spiriti che oggi sono tra noi, non sia estirpato e guasto dagli maligni e dagli ignoranti. è un brano meraviglioso e densissimo. Raffaello usa il verbo dovere, non deve Padre Santissimo essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità la tutela. Tante volte ci diciamo che la tutela del patrimonio culturale è tra gli ultimissimi pensieri dei governanti di oggi. Raffaello dice al Papa non deve. Ora un artista che dice a un Papa cosa deve o non deve fare è piuttosto impressionante e poi è impressionante anche come definisca le antichità di Roma la madre della gloria e della grandezza italiana. Che cos'era l'Italia nel 1519? Raffaello nasce a Urbino si forma in Umbria poi a Firenze e arriva a Roma. Non parla di grandezza romana parla di grandezza italiana. proprio nel momento in cui la questione della lingua italiana delle parole è così importante e alcuni amici intimi di Raffaello hanno un ruolo decisivo il cardinale Pietro Bembo per esempio che con Raffaello andava in gita tra le antichità di Roma lo stesso Castiglione nel momento in cui si parla si teorizza si discute sulla lingua italiana questa operazione culturale geniale che costruisce una lingua colta che poi diventerà una lingua di tutti nel passare dei secoli che si basa sulla grande lingua del Trecento ma aperta di Dante di Petrarca di Boccaccio ma aperta anche all'uso contemporaneo all'italiano del Cinquecento questa discussione sulla lingua delle parole investe anche la lingua delle figure il patrimonio culturale l'Italia che ha una madre nelle rovine di Roma l'articolo 9 della Costituzione che citavo prima è l'unico tra i principi fondamentali i dodici principi fondamentali della Costituzione italiana che usì la parola nazione in Italia dopo il fascismo non si pronunciava volentieri questa parola in nome del nazionalismo milioni di morti erano caduti in tutta Europa e il nazionalismo inteso come come dire un patriottismo cinico che contrapponeva le nazioni e risolveva col sangue il primato era bandito non si poteva più parlare di nazionalismo io ricordo che quando un altro piccolo aneddoto personale quando ero studente alla scuola normale di Pisa venne a darci i diplomi il presidente della Repubblica Ciampi che era stato normalista allievo di questa scuola pubblica di eccellenza fondata da Napoleone per l'appunto a Pisa Ciampi era quello che aveva ricominciato a parlare di patria e di nazione e ci disse beh voi ragazzi penserete che io sia un vecchio trombone e noi in effetti un po' lo pensavamo e dunque sorridemmo un po' e lui ci raccontò che quando era dalla nostra età e fu data alla mensa della normale la notizia che la Francia era caduta sotto le truppe di Hitler delle truppe naziste a cui noi ci eravamo alleati italiani fascisti ebbene Ciampi si alzò in piedi e cantò con alcune matricole della scuola normale la Marsignese cioè l'inno di Francia venendo espulso dalla scuola normale il cui direttore in quel momento era Giovanni Gentile e Ciampi ci disse beh la nostra idea di nazione non era l'idea fascista la nostra nazione in quel momento era la Francia la nostra nazione era l'Inghilterra la nostra idea di nazione era diversa non era quella quella lì la Costituzione italiana che viene scritta fra il giugno del 46 e il gennaio del 48 usa la parola nazione solo nell'articolo 9 con cultura ricerca paesaggio e patrimonio una nazione per via di cultura non difesa dall'esercito ma difesa dalla sua stessa apertura culturale dunque questa idea che l'Italia sia una nazione per via di cultura e dunque aperta per storia e per natura potremmo dire ha un incunagulo un'origine molto importante per esempio in questo testo madre della grandezza italiana e poi Raffaello dice perché va tutelato perché con il suo valore con la sua virtù questo patrimonio eccita alla virtù gli spiriti che oggi sono tra noi dunque un'idea di tutela non rivolta al passato ma rivolta al futuro e non rivolta alla tutela degli oggetti in quanto tale ma rivolta alla lui dice all'eccitazione degli spiriti il primo comma dell'articolo 9 della Costituzione dice promuove lo sviluppo della cultura cioè il fatto che il patrimonio culturale si tutela perché produce conoscenza attraverso che cosa? attraverso il lavoro delle comunità della conoscenza attraverso il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori attraverso il lavoro di chi studia quindi un'idea di tutela per nulla statica ma invece dinamica e rivolta alla produzione di conoscenze ancora pochi minuti Raffaello continua dicendo che vostra santità deve cercare di lasciar vivo il paragone degli antichi agguagliandoli e superandoli come ben fa con grandi edifici esattamente come sparge il santissimo seme della pace tra i principi cristiani questo è un passo meraviglioso il Papa deve fare la pace tra il passato e il presente come fa la pace tra i principi cristiani cioè deve lasciare vivo il paragone degli antichi e costruire bellissimi edifici moderni il sottotesto qual è non abbattere l'antica basilica paleocristiana di Costantino per costruirne una nuova ma farne una nuova e lasciare il paragone lasciarle entrambi un'idea di moderno che non si afferma a danno dell'antico ma coabitando con l'antico e l'idea di una pace fra il presente e il passato è un'idea che anche qui la metafora segue una metafora politica cioè quella della pace fra le potenze cristiane nell'assemblea costituente italiana non si parla della lettera di Raffaello ma naturalmente si dibatte moltissimo di patrimonio culturale e l'unico architetto l'unico collega di Raffaello presente in Costituente non è un architetto importante come Raffaello si chiamava Florestano di Fausto e non molti lo ricordano oggi ma è interessante perché è l'unico deputato architetto la Costituente si batte moltissimo perché il patrimonio culturale entri nella Costituzione come poi succederà e dice noi non siamo i padroni ma siamo i depositari e i consegnatari responsabili di così incomparabile tesoro questo patrimonio trascende il carattere nazionale per assurgere importanza mondiale e costituisce nel suo complesso il più alto contributo dello spirito all'umanità noi siamo i responsabili a nome di tutti questa idea di essere tutori depositari consegnatari e non padroni a nome di tutti risuona anche nell'assemblea costituente e dunque quando poi si scrive tutela e anche se per Raffaello non è citato esplicitamente c'è però la consapevolezza forte di questo nesso questa è un'idea che percorre tutta la storia della cultura italiana dal rettore di un'università senese mi piace citare Caterina da Siena che continua in tutte le sue lettere ad ammonire i potenti del suo tempo sul fatto che le città le signorie i beni sono come prestate a noi non siamo padroni ma sono non sono cose nostre ma sono in prestito è un'idea che lasciava come dire esterrefatti i potenti del tempo di Caterina che guardavano a questa piccola donna che li minacciava alzando il dito più o meno come i grandi della terra di oggi guardano a Greta Thunberg quando ricorda loro che non siamo padroni del creato ma siamo custodi del creato e forse non è un caso che uno dei documenti più impressionanti dell'ambientalismo di oggi la laudatosi di Papa Francesco dica esattamente questo non siamo padroni ma siamo custodi le parole del Papa un'idea che oggi è particolarmente attuale nella chiudo con questo nel suo diario uno dei più importanti padri costituenti un giurista fiorentino Piero Calamandrei rettore dell'università di Firenze uno dei fondatori del partito d'azione racconta che usa una metafora per spiegare questo e dice che quando era bambino suo nonno che era il pretore di Montepulciano non lontano da Siena lo portava a cercare i funghi nel bosco e quando non trovavano i funghi suo nonno gli diceva Piero ci sono belle stati in Toscano cioè Piero è passato già qualcuno e se li è presi e Calamandrei diceva beh mi dispiaceva non solo perché ero goloso mi piaceva come la nonna friggeva i funghi ma mi dispiaceva perché non potevo capire perché chi era venuto prima non avesse pensato a chi sarebbe venuto dopo in questa idea del pensare a chi viene dopo sta forse il succo più importante il contenuto più importante di quell'idea di tutoraggio di tutela che sta nella lettera di Affello che sta nella nostra Costituzione è così e che oggi è così urgente quando sentiamo tutti la necessità stringente tanto stringente da rischiare di non lasciarci molto tempo per deciderci la nostra idea di lasciare questa terra a chi viene dopo di noi non solo il Papa ma molti altri ripetono oggi un detto che viene significativamente attribuito sia ai nativi americani che africani non abbiamo rieditato la terra dai nonni l'abbiamo in prestito dai nipoti grazie siamo noi che la ringraziamo professore per questa veramente veramente molto interessante conferenza io sono rimasta molto colpita da diversi concetti a cui devo ammettere avevo pensato poco insomma nonostante io sia un insegnante che da anni non sono un insegnante di storia dell'arte sono un insegnante di italiano e latino nei licei italiani e adesso qui in Turchia io le faccio alcune un paio di domande per non prendere tutto lo spazio mi auguro che ci siano altri che raccolgano diciamo il testimone e facciano altre domande prima di tutto mi interesserebbe proprio da un punto di vista di pure e semplice curiosità la reazione di Leone Decimo cioè c'è stata una risposta è documentato qualcosa possiamo supporre una sua reazione e poi evidentemente Raffaello in questo non so se sia stato l'unico ma sicuramente non era accompagnato da molti lei ha citato prima Bramante che invece era ben contento di distruggere e ricostruire secondo lei c'è un momento nella storia italiana nella storia dell'arte italiana in cui quest'idea ovviamente penso che sia prima dell'articolo 9 della Costituzione in cui quest'idea della tutela e del salvaguardare il patrimonio artistico perché da una parte non è nostro e dall'altra parte siamo responsabili della sua salvaguardia c'è un momento in cui questo si è affermato cioè io penso a tante distruzioni che ci sono state per esempio alla fine dell'Ottocento lei di Firenze insomma tutta mercato vecchio piazza della quella che si chiama piazza della Repubblica che ci sono insomma delle meravigliose foto ma nessuno può vedere recentemente ho scoperto anche la la distruzione è una mia colpa averla scoperto recentemente perché invece è datata del palazzo Torlonia che si trova piazza Venezia cioè tutte queste distruzioni molto recenti rispetto alla lettera di Raffaello quindi mi chiedo quando è che a un certo punto abbiamo capito che quello che diceva o perlomeno abbiamo avuto la sensibilità di crederci perché se c'è nella Costituzione evidentemente questa cosa sia diffusa ecco quando è il momento in cui abbiamo capito quello che voleva dire Raffaello secondo lei allora alla prima domanda si può rispondere ricordando che Leone X affidò a Raffaello qualcosa che viene impropriamente detto la sovrintendenza delle antichità di Roma c'è un ruolo di commissario di Raffaello ci sono degli studi recenti anche molto belli importanti su questo sicuramente ci fu un tentativo di affidarsi proprio a Raffaello in una impresa di documentazione e di tutela alcune importanti collezioni romane che rischiavano di essere disperse furono tenute insieme c'era diciamo un accenno direi che però se noi percorriamo tutta la storia della cultura italiana troveremo sempre le due posizioni se lei mi chiede quando l'abbiamo capito direi che non l'abbiamo capito neanche oggi due delle più importanti leggi urbanistiche dell'Italia contemporanea non farò i nomi dei presidenti del consiglio che le hanno varate hanno usato come claim come slogan pubblicitario padroni in casa nostra per dire che possiamo modificare il territorio come ci pare c'è proprio il contrario di tutori quindi forse non l'abbiamo capito neanche oggi però è interessante che dai tempi di Cicerone in poi c'è sempre un dibattito per non dire una battaglia ci sono sempre due posizioni c'è una minoranza che combatte per il patrimonio culturale e una maggioranza che invece vorrebbe avere tutto a disposizione nella propria generazione Ghiberti un passaggio famoso di Ghiberti è quello in cui si racconta dei senesi che trovano una venere bellissima la mettono in grande onore una statua antica sulla fonte di piazzare il campo e poi siccome perdono la guerra con i fiorentini la distruggono e nottetempo la seppelliscono in territorio fiorentino e racconta la discussione a Siena tra chi considerava questa una superstizione che invece poi alla fine vince chi decide di seppellirla ogni secolo si può fare io sto un po' provando a farla prima o poi uscirà una storia del dibattito sul patrimonio culturale vede in ogni secolo direi in ogni anno due voci contrapposte la Costituzione italiana è un momento la Costituente è un momento di straordinaria illuminazione in cui molti dei principi ma non solo per la storia dell'arte se uno cerca la parola tutela questa cosa molto interessante nella Costituzione italiana troverà in quanti altri ambiti viene applicata un articolo oggi fondamentale è quello che riguarda la salute la tutela della salute come bene anche pubblico è un momento in cui si riescono ad affermare dei principi contesi fino a quel momento e non certo maggiorità da qui poi anche la contesa successiva diciamo perché qui c'è un problema di coscienza e di cultura non è un problema di leggi di norme direi che è una lunga storia di antitesi che attraversa tutta la nostra vicenda culturale bene la ringrazio chiedo se ci sono altre domande che volete porre al professor Montanari visto che lo abbiamo qui approfittiamone c'è qualcuno potete anche farlo in chat se volete non so quindi lei sta preparando una pubblicazione su questo sì perché è un argomento diciamo che sto mettendo via molto materiale ecco è un argomento che secondo me andrebbe veramente molto diciamo tramandato uso questo termine un po' ciceroniano agli studenti alle nuove generazioni poi tra l'altro noi qui in Turchia io non conosco la regizzazione della Turchia su questo però è un paese in cui anche qui il patrimonio artistico antichissimo e quindi insomma potrebbe anche qui essere importante questo concetto questa questa idea di una salvaguardia per le prossime generazioni per qualcosa di cui dobbiamo essere tutori bene chiedo ancora una volta se ci sono domande se invece non ci fossero domande siamo rimasti tutti molto colpiti professore secondo me non riusciamo a passiamo direttamente ai saluti non vorrei rubare tempo così vuoto per cui spero che ci saranno altre occasioni di incontro magari anche spero anche in Turchia benissimo benissimo noi siamo pronti l'aspettiamo saremo molto contenti e la ringrazio veramente per questa per me veramente illuminante rassegna io ho ricevuto molti stimoli personalmente prima di tutto cioè proprio a livello di riflessione personale e sicuramente anche a livello di trasmissione di queste cose infatti voglio andarmi a leggere questa lettera che tra l'altro mette insieme l'arte e la lingua come diceva lei anche la letteratura mi fa piacere pensare all'identità italiana nata non solo come pensavo fino a poco fa attraverso la letteratura ma anche attraverso l'arte consapevolezza dell'identità italiana Roberto Longhi diceva che la storia della critica d'arte nasce nell'undicesimo canto del purgatorio dove Dante parla dei padri della lingua ma anche dei padri dell'arte giotto e cimabuo intrecciate a guinzelli e cavalcanti sono delle due lingue degli italiani e proponeva allora cattedre di insegnamento miste di italiano storia dell'arte che sarebbe stata una bella sfida sì invece io sono molto arrabbiata perché adesso chiedono agli insegnanti di italiano di fare anche storia dell'arte sono arrabbiata perché secondo me non si può come dire dividere suddividere il tempo su queste due materie che sono importantissime e invece bisognerebbe dare lo spazio giusto a entrambe benissimo allora torno di nuovo a salutarle personalmente lascio però la parola a dottor sabbioni e alla professoressa scan che ufficialmente la salutano secondo i loro ruoli la professoressa scan è la direttrice del dipartimento di italianistica dell'università di Ankara e il dottor sabbioni è il direttore dell'ufficio culturale dell'ambasciata italiana ad Ankara professor Montanari la ringraziamo molto per questo interessante intervento e vorremmo proprio vederla qui ad Ankara quando avrà un momento di tempo so che è occupatissimo ma ci farebbe piacere ospitarla qui e vedere con lei ecco tutto quello che abbiamo qui di greco di romano della cultura bizantina che credo che le interesserà vedere di persona non so se c'è stato prima in Turchia ma ci farebbe gran piacere averla qui alla primissima occasione lo prometto verrò molto felice di venire grazie la invitiamo anche noi come ambasciata e anche con il direttore dell'istituto di cultura di Istanbul che oggi purtroppo col covid non si è mai potuto essere qui e grazie mille rettore professore per questa interessantissima lezione anche dall'ambasciata e grazie anche per i corsi di lingua italiana che abbiamo organizzato insomma con voi e poi la professoressa Machetti e speriamo appunto di vederci presto di nuovo sarà un piacere per noi la Turchia è proprio come dire un luogo strategico di lavoro e di amore per molti versi e per cui insomma ci rivedremo benissimo grazie grazie ti prego non so chi ha parlato sulla chat c'è una domanda ah sì vediamo ringrazio il professore per lo splendido intervento una domanda per il professore la lettera di Raffaello ha suscitato polemiche a Roma no perché Raffaello è morto e la sua fortuna poi è stata una fortuna appunto casica è interessante che venga fuori e la si riattribuisca a lui appunto alla fine del settecento negli anni tremendi di Napoleone quando c'era bisogno di una voce autorevole in questo gioco di specchi che è tipico della cultura italiana per cui siamo abituati a parlare del presente attraverso il passato diciamo i Promessi Sposi e tanti altri casi analoghi nel momento in cui c'era bisogno di difendere l'Italia c'era un grandissimo artista come Antonio Canova incaricato dal Papa di recuperare l'opera d'arte risorge il fantasma di questa lettera di Raffaello quindi è una storia di dialogo e come dire di specchi ma non ci fu una polemica e forse non ci poteva neanche essere in quel momento in questi termini certamente è interessante vedere per esempio io sto provando a farlo per il secolo che studio soprattutto il Seicento come si sviluppa questo dibattito e se si fanno se si interregono i documenti da questo punto di vista cosa che non si è mai fatta emerge un'enorme quantità di dispute sul patrimonio culturale i papi del barocco che costantemente provano a distruggere il patrimonio antico in favore di quello moderno e una reazione e una difesa molto interessante da parte di alcuni intellettuali e alcuni artisti intrecciata anche altri aspetti tipicamente italiani c'è una cultura per esempio municipale dei comuni il Campidoglio il comune di Roma che si oppone al Papa perché le antichità si consideravano di proprietà del popolo romano e non per caso nel Settecento il primo museo pubblico del mondo nasce in Campidoglio quindi è una storia in cui la polemica non è mai diretta come oggi non siamo su Twitter ma è una polemica che nel corso dei secoli in un gioco di specchi viene fuori invece si può far parlare bene allora io concludo saluto anche tutti i convenuti ricordo semplicemente che la conversazione del professor Montanari sarà registrata cioè è stata registrata e sarà divulgata sul canale YouTube sia dell'ambasciata che della università così avremo modo di ripensarla di rivederla e di non dimenticarla ringrazio di nuovo tutti e vi auguro una buona serata grazie buona serata a tutti buona serata grazie grazie grazie